Non c'è possibilità perché la fila è così lunga che non ci si sta. Chiedo scusa, siete i primi ad entrare? Siete qua per Piero Angra? Sì, sì, sì. Inizia qua la fila? Sì, arriva fino a... Quanto siete in fila? Da due ore. Da due ore. Quanto siete in fila? Stai chiudendo la fila per andare a vedere Piero Angra? Presumo di sì, ma non ce la si può fare.